buongiorno buongiorno cari amici del canale buongiorno dal vostro nick juve stamattina giornata importante giornata decisiva udienza vediamo chi si presenta chi non si presenta ovviamente gli avvocati della juve si sono presentati perché è giusto che sia così gli avvocati bella cosa e san giorgio non si sono presentati gli assistiti agnelli arriva bene cherubini paratici eccetera 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 però l'udienza viene sicuramente da quel che dicono rinviata poiché alcuni degli azionisti di minoranza un 20 30 diciamo elementi si sono destituiti parte civile e quindi sono diciamo subentrati questi nuovi elementi e quindi bisogna riesaminare in un certo modo quello che sta succedendo vi dico la mia visto e considerato che anche la juve sta aspettando anche di avere la risposta di spostare questo che è questo diciamo faldone come competenza territoriale però diciamo l'accettazione del continuare a avere risposte o risvolti da questa parte o averla spostata a Roma o a Milano lo sapremo solo nell'udienza prossima detto questo io ho una mia personale idea o personale opinione che diciamo sta circolando in maniera un po insistente anche se poi non ne trova granché il riscontro su google su altre situazioni simili per dare un attimo di veridicità a quello che si dice no e io ho la sensazione che questo possa essere e possa avere un fondo di verità perché purtroppo in questo momento storico per la juventus di vero o di reale ho qualcosa che ci possa far dire bene effetti questo è vero perché così perché lo sappiamo per certo che andrà in questo modo non esiste non esiste perché quando si tratta di parlare di noi tutto quello che montano viene creato a regola d'arte cioè non ha un fondamento perlomeno cercano degli appigli però non sono reali mi spiego meglio l'inchiesta prisma nasce anche e soprattutto per la questione plus valenze nel 2007 2008 per farvele in breve in 3.000 furono tranquillamente non colpevolizzate né con un'ammenda né con penalizzazioni perché il fatto non sussiste perché la plus valenza non è reato e perché non c'è una norma o un qualcosa che verifica la veridicità del fatto cioè lo puoi fare non c'è un veto non c'è un blocco non c'è una cifra x y o z che tu debba stabilire per un calciatore a seconda di presenza e gollo o altro e quindi è una cosa normalissima che fan tutti fan tutti no fa uno che lo fanno tutti detto questo c'è adesso con questo rinvio di stamattina ovviamente c'è un messaggio ben chiaro che io mi son posto questo messaggio secondo me è questo la combriccola e la cricca composta da ceferin a capo andando più in giù con malagò gravina abbodi dalpino eccetera 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 si sono detti questo cercate di rallentare la juventus in più il più possibile anche a livello penale sappiamo benissimo piccola parentesi che la giustizia sportiva ha sempre una grandissima velocità nei confronti della juventus basta guardare farzopoli 1.0 in un mese ci mandare in serie b e basta guardare questa farzopoli 2.0 in 20 giorni ci diedero in meno 15 punti detto questo c'è un messaggio ben preciso rallentato la juventus ovviamente se la juve si deve districare tra campo e non campo tra udienze non udienze tra cose da fare da non fare ovvio che un po di lucidità in tutto quello che deve andare a fare lo perda perché fanno questo perché qualcuno ha chiesto la serie b per la juventus ceferin a tutto il gruppo che vi ho elencato prima e gli ha promesso gli ha proposto in cambio non solo di fare le olimpiadi del 2030 al 2032 adesso precisamente non si è capito bene quando ma gli ha proposto anche suppongo con qualificazione delle squadre eccetera eccetera di dargli un aiuto a a quello che sono a quello che è il rifacimento e ripristino degli stati obsoleti in modo tale che giustamente in quel caso lì specifico si possa dare l'olimpiade a chi la va a chiedere no quindi gli stati non sono più obsoleti tutto diventa alla portata nella correttezza giusta un'olimpiade può essere assegnata il cambio e in cambio ci deve essere il rallentamento della juventus fino a cercare di arrivare di mandarle in serie b ragazzi per ora vi lascio così perché non credo sia un pensiero tanto distante da quello che poi è la realtà dei fatti e se ci fate caso e andate ad analizzare un attimino tutte le cose che stanno accadendo non è sempre un calcolo matematico dove sappiamo che 2 più 2 fa 4 spesso sta diventando una cosa illogica una cosa molto molto strana e anomala comunque vi lascio con questo mio pensiero continuo a ringraziarvi tutti per tutto quello che state facendo per tutte le iscrizioni che avete fatto e effettuato nei miei confronti nick juve vi dà un grandissimo abbraccio perché siete veramente educati a modo al di là di chi commenta in maniera un po più spinto o meno però fa piacere comunque che ci sia tanta tanta gente a modo che esprime anche la propria opinione ma in maniera molto corretta tranquilla e serena come è giusto che sia perché alla fine si può essere anche depositante altre squadre però per carità è giusto anche non oltrepassare i limiti e lasciare sempre tutto in un ambito in un contesto di un rettangolo di gioco un grosso abbraccio dal vostro nick juve mettete un like se vi è piaciuto anche questo video iscrivetevi al canale un abbraccio e continuate a seguirmi ciao